Buon pomeriggio a tutti, sta per cominciare la partita tra Catanzaro e Cosenza Allora, no, il commento su questa partita, stiamo vedendo il Cosenza, stiamo vedendo Sta facendo la sua partita, sta cercando di imporsi E quindi, tutto lascia presagire No, no, io... Mamma mia, mamma mia, mamma mia E' ovvio, è mezzo normale, non puoi Eccolo! E' giusto per non dire, ne abbiamo presi tre, proprio di spazza Adesso rimani, mi ascolti Adesso devi ascoltare, adesso devi ascoltare L'è finito il derby, 2-0 Catanzaro, Cosenza non è mai pervenuto in campo Allora, no, il commento su questa partita, stiamo vedendo il Cosenza, stiamo vedendo Stiamo vedendo il Cosenza, stiamo vedendo Eh sì, oi, non hanno purgato, ma tutta la sera passiamo il Cosenza, qual'era il problema? Cioè, non ho visto tutto il problema, ne prendiamo un imodium e ne passiamo tutto, è a posto, oi? Grazie a tutti!